mmmm te siglone show vautuno cliccate la sigla in descrizione iscrivetevi al canale mettete più mi piace condividete e commentate te siglone show vautuno se se non cliccate la sigla in descrizione chiamo lo spot di tabù per due ore consettutive cliccate la sigla in descrizione e sarete premiati iscrivetevi al canale grazie te siglone show vautuno buon 2024 nel te siglone show vautuno questa settimana parleremo più di due cartoni perché ho già in mente di recensire più cartoni animati possibili e ormai siamo quasi a 200 cartoni da recensire e abbiamo superato anche le puntate di super joe m non vogliamo menzionare per prendenta quello del te cartoon show ma abbiamo superato una storia di molti visori ma in futuro state certi che arriveranno tantissimi bei cartoni animati ma stavolta due settimane ci saranno tantissimi ma non voglio spoilerare se ma se ma mente ma io vi dico una cosa vi indovino un giorno recensirò anche quel quel pane che fa il parrucchiere forse una serie di un ragazzo ragazza cane gatto formaggio vabbè è quello del che vuole diventare un pompiere recensiremo tutti e ci saranno molti cartoni animati quelli vecchi e quelli nuovi sin dai anni 30 80 60 fino ai giorni nostri e recensiremo molti cartoni animati cartoni animati saranno 220 lo scopriremo in futuro e questa stagione del testiglone show autunno saranno 35 puntate ma il testiglone show autunno lo lascio così il nome non voglio chiamarlo testiglone show 4 non voglio interrompere con l'episodio 10 altrimenti il il re dei bm si incazza ok va bene cominciamo oggi parleremo di un vecchio cartone che è arrivato nel 1968 walkie races detto in italiano le corse pazze creato dai nostri leggendari dei vecchi cartoni animati william annan e joseph barbera che è trasmesso in italia negli anni 80 sul rai 1 che affetti v24 questo cartone che si chiama walkie races che è iniziato nel 1968 ed è concluso nel 1969 un cartone di produzione anna barbera 34 episodi che in italia hanno trasmessi 17 episodi si fa per dire perché hanno diviso due episodi vabbè e poi hanno fatto anche due spin off che si chiama dartle ed mutli e le macchine volanti che curiosità questo cartone l'hanno trasmesso prima di walkie races in italia questo cartone si considera che è il primo cartone di walkie races e dove duster di matley che sono dei protagonisti che hanno come agenzia agenzia come si dice agenzia degli aeroplani perché devono cacciare un piccione che trasmesso in italia dal noto rai 1 nel 1972 e poi è nata di fatta nel 1969 ok penelope pistof le avventure di penelope pistof che è uno spin off dedicato alla bellissima ragazza pilota con i capelli biondi che sempre incertata su di lei che viene catturata dai nemici che un bello spin off iniziato nel 69 ed è concluso in 70 ma trasmesso anche prima della serie di walkie races che lo hanno trasmesso negli anni 80 ma lo danno su it rai 1 per la prima volta nel 1972 nel contenitore dei cartoni eroi di sera non lo so vabbè e poi nel 2017 hanno fatto una serie su walkie races del 2017 che è stato trasmesso da boomerang cartonito recentemente su italia 1 nel 2023 repliche dal 16 luglio con 78 episodi e due stagioni vabbè se volete una curiosità walkie races del 2017 lo hanno trasmesso su italia 1 nel 2023 ok vabbè e comunque anche una curiosità dic da 3 terzo è doppiato dal doppiatore di scubidu e a e david alvin anni baldini si cosa stiamo per guardare walkie races del 2017 sta serie fanno delle gare fuori di testa e ti fanno divertire un sacco di cose c'è anche il prodotto da anna barbara production i cartoni di anna barbara nel 2017 è finito nel 2019 ben due stagioni questo cartone beh non ci sono molti pilotti rispetto alla vecchia stagione ma appaire questa bambino prodigio questo bambino prodigio quello con il casco giallo ed è molto intelligente poi ci sono anche questi due che è un vampiro e un frankenstein e poi ci sono quelli di sempre peter si penello pepistop dick dartley e mattley che assieme a questo annunciatore nero che dice benvenuti alla gara di walkie races si l'ho visto su cartonito nel 2019 e la mattina su italia 1 nel 2023 ma dato che non seguo i cartoni animati di italia 1 di latte cartoni beh in estate italia 1 mette cartoni nuovi ma invece sono cartoni delle che in precedenza sono recenti e finiti spero che lo trasmette bax su italia 1 vediamo avvisatemi che trasmettono bax su italia 1 va bene va bene la recensione dura dieci minuti ok ci saranno ogni dieci minuti e puoi trovare anche la sigla con il logo di italia 1 di walkie races beh tutto sommato dick duster e gli altri fanno corse a non finire e vince sempre gli altri che poi dick duster e mattley cercano di imbrogliare imbrogliare e alla fine non ci riescono non ci riescono a vincere loro non vincono mai quei due ragazzi walkie races è un bel cartone ma l'ho visto quello del 2017 ma la puntata più inquietante è quello del futuro dove c'erano molte discendenti di penelope pizzo poi c'è questo del t ci sono tanti ma walkie races è un reboot del 2017 quello rifatto dai è rifatto il reboot walkie races ha fatto tantissime cose mechandising e tanto altro ma walkie races c'è è un bel cartone ma diciamo va bene va bene concluso questa recensione di walkie races speriamo che questo lo metteremo le recensioni del tè siglone show autunno il sabato e la domenica e lì beribiz go ritorneremo a mettere il loro spazio il mercoledì perché siamo quasi per finire a fare beribiz go la prima stagione è già finita ho già finito di disegnare tutto piano piano usciranno molti episodi di beribiz go perché erano lenti gli episodi è durato due anni perché l'ho cominciato nel 2021 quindi non esitatevi alle corse parse di walkie races dìs il Grazie a tutti